Uno dei problemi principali dell'informatica è quello di ordinare una serie di dati o di valori oppure di parole. Diciamo che è un problema tra quelli più frequenti, basta pensare ad esempio a un archivio di un'anagrafica di un comune in cui si può desiderare di tenere ordinati tutti gli abitanti del comune, tutti i residenti per nome e cognome oppure si possono volerli ordinare in base al codice fiscale oppure in base alla data di nascita a seconda delle varie problematiche. Tanto c'è avere la possibilità di poter ordinare la nostra sequenza di valori in una maniera efficiente, cioè cercando di ridurre al massimo il numero di operazioni da fare e quindi rendere più rapido questo ordinamento, è uno dei problemi principali dell'informatica. Esistono uno svariato numero di algoritmi che portano all'ordinamento e adesso ne vedremo due. Più che altro ci soffermeremo sulla tecnica di ordinamento ma anche sul numero di operazioni, quindi sull'efficienza dell'algoritmo, che dovremo fare per raggiungere l'ordinamento, raggiungere quindi, ottenere il nostro obiettivo, cioè quello di avere la sequenza di dati ordinata secondo il criterio che abbiamo deciso. L'ExchangeSort è un algoritmo di ordinamento per scambio. Vediamo per sommicarvi come funziona. Noi abbiamo un elenco, una serie di valori non ordinati ed ogni elemento viene confrontato singolarmente con gli altri. Se per ogni coppia la coppia verifica quello che è il criterio di ordinamento, non avviene uno scambio. Nel caso in cui invece la coppia non verifica il criterio di ordinamento, viene effettuato lo scambio tra questi due valori. In maniera sintetica vediamo di capire come funziona con un esempio. Abbiamo qui sei valori numerici che vogliamo ordinare con un criterio crescente, cioè dal più piccolo al più grande. Questo algoritmo funziona in questo modo qua. Noi confrontiamo il primo valore con il secondo. Nel caso in cui il primo valore sia inferiore al secondo, non effettuiamo uno scambio tra i due valori. Se invece il primo valore è superiore al secondo, effettuiamo uno scambio. Dopodiché proseguiamo sempre con il confronto tra il primo valore e il terzo valore. E anche in questo caso, se i due valori rispettano il criterio di ordinamento, non viene effettuato uno scambio tra i due valori. Nel caso in cui invece non sia rispettato il criterio di ordinamento, viene effettuato lo scambio. E così via. Si procede confrontando il primo valore della serie con il secondo, poi con il terzo, con il quarto, con il qui, con l'ultimo della serie. In questo modo che cosa otterremo? Otterremo che il più piccolo, al termine del primo giro, si troverà nella posizione corretta. Applichiamolo a questa sequenza di sei numeri. Dal punto di vista grafico, sono stati rappresentati questi numeri con un carattere anche crescente in base al loro valore. Allora, la prima coppia di numeri, il primo elemento è 14, viene confrontato con 6. Poche 14 è minore di 6, i due elementi vengono scambiati. Dopo il primo scambio, la situazione del nostro elenco di numeri è questa qui che abbiamo in seconda riga. Quindi il 6 si trova al primo posto, in prima posizione, il 14 in seconda posizione. L'algoritmo riprende, viene confrontato sempre il primo elemento, però questa volta col terzo. È inutile confrontarlo con il secondo, perché essendo stato effettuato lo scambio in precedenza, sicuramente 6 è minore di 14. 6 viene confrontato col terzo in ordine di posizione, che è 25, è effettivamente minore di 25, quindi non viene effettuato nessuno scambio. E così confrontando il primo elemento, 6 con il quarto, che è 19. Viene poi effettuato un nuovo confronto tra 6 e il quinto elemento, che è 2. Poiché 6 è maggiore di 2, i due elementi vengono scambiati di posizione. Quindi il 2 viene portato in prima posizione e il 6 in quinta posizione. Dopo aver effettuato lo scambio, la configurazione della nostra sequenza di numeri è questa qua che sta al terzo rigo. A questo punto l'algoritmo procede. Il 2, che è in prima posizione, viene confrontato direttamente col sesto, perché sicuramente sarà minore degli elementi che sono in seconda, terza, quarta e quinta posizione. Poiché è quindi inutile effettuare nuovamente il confronto con il 14, il 25, il 19 e il 6. Il 2 è ancora inferiore al 39 e quindi il primo giro di confronti è terminato. Come vediamo, l'elemento che era il più piccolo della sequenza adesso si trova in prima posizione, cioè la posizione che gli compete. A questo punto l'algoritmo riprende. Alla stessa maniera però partendo dal secondo elemento, quindi dal 14, che verrà confrontato con tutti gli altri elementi rimanenti della serie. Per il motivo che abbiamo visto prima, al termine della serie di confronti e scambi, troveremo il secondo per ordine di grandezza, quindi il 6, lo ritroveremo al posto del 14. Quindi l'algoritmo procede in questo modo. Il 14 viene confrontato col 25, non vengono scambiati, poi col 19 non vengono scambiati e infine col 6. E qui avviene uno scambio. A questo punto l'algoritmo procede confrontando il 6 direttamente col 39, poiché siccome il 14 era sicuramente minore del 25 e il 19, il 6 che ha preso il posto del 14 ed è più piccolo del 14 sarà a maggior ragione più piccolo del 25 e del 19, oltre che del 14. Quindi l'algoritmo riprende confrontando direttamente l'elemento 6 con il 39. Il 6 è il più piccolo del 39, abbiamo terminato il secondo giro, al termine del secondo giro il 6 si trova nella posizione che gli compete nell'ordinamento. Si ripete con un terzo giro, iniziando il confronto del 25 con il 19. Questo cambio, il 25 è il più grande del 19 e i due elementi vengono scambiati di posto. A questo punto troviamo il 19 al posto del 25. L'algoritmo procede confrontando il 19 col 14. E' inutile effettuare il confronto, lo ripetiamo, col 25 perché è stato effettuato lo scambio precedentemente. Il 19 verrà confrontato col 14, ci sarà un ulteriore scambio e così via. Al termine del terzo giro troveremo il 14, cioè il terzo elemento in ordine crescente al suo posto, quello che gli compete. A quel punto noi riprenderemo lo stesso ragionamento partendo dal quarto elemento, fino ad arrivare a completare l'ordinamento della sequenza di numeri e quindi l'algoritmo terminerà. Quindi, completando tutta la serie di confronti e scambi, alla fine avremo ordinata la nostra sequenza di numeri in ordine crescente. Per fare, diciamo, tutto, per eseguire tutto questo procedimento cerchiamo di capire quanti calcoli abbiamo dovuto fare, ma soprattutto quanti calcoli, quindi quanti scambi e confronti, quanti operazioni elementari verranno eseguite nel caso peggiore, oppure nel caso migliore e nel caso medio. Il caso migliore qual è? È che l'algoritmo, che la sequenza di valori è già ordinata, come questa qui, quindi nel caso migliore, best case, dobbiamo effettuare comunque un certo numero di confronti, perché dobbiamo confrontare il 2 con il 6, poi con il 14, poi con il 19, poi con il 25, poi con il 39. Non effettueremo nessuno scambio, però nessuno ci assicura che gli altri 5 valori siano effettivamente ordinati e quindi si ripeterà con il secondo ciclo. Il primo elemento, il 6, verrà confrontato con tutti gli altri 4 e in ogni caso, essendo ordinato, non verrà effettuato nessuno scambio. Quindi, in questo caso, il numero di operazioni che abbiamo effettuato sarà il seguente. Best case, 5 confronti al primo giro, più 4 confronti al secondo giro, più 3 confronti al terzo giro, poi 2 confronti al quarto giro, partendo da 19, e infine un unico confronto tra gli ultimi due termini. Ragionando quindi in generale, cioè nel caso in cui abbiamo una sequenza di n più 1 elementi, quindi se abbiamo una sequenza di 100 elementi, questo numero n sarà 99. Quindi, consideriamo una sequenza di n più 1 termini. Quindi, se abbiamo una sequenza di n più 1 elementi, caso generico, dobbiamo effettuare n confronti al primo giro, n meno 1 confronti al secondo giro, poi al terzo giro n meno 2 e così via, fino all'ultimo giro che è costituito dal confronto tra gli ultimi due elementi. Sappiamo che la somma dei primi n numeri possiamo ottenerla con il seguente ragionamento. Quando andiamo a fare la somma del primo con l'ultimo numero, otterremo n più 1. Secondo numero con il penultimo numero sarà n meno 1 più 2, cioè n più 1. E così via, il terzo elemento più il terzo ultimo, n più 1. Cioè, ragioniamo su una somma da 1 a 100, 1 più 100 farà 101, 2 più 99 farà 101, 3 più 98 farà 101. Quindi, questa somma di n numeri possiamo scomporla che cosa? In 50 coppie, cioè la metà di n, e ogni coppia avrà come somma n più 1. Quindi basterà moltiplicare il valore della somma di ogni coppia, n più 1, per il numero di coppie che è n mezzi, perché se abbiamo n numeri, la metà di questi numeri sarà anche il numero di coppie. E quindi è spiegata adesso questa formula. Allora, il numero di confronti che dobbiamo fare è dato da questa quantità, n più 1 per n mezzi. Se abbiamo una sequenza di n più 1 elementi, cioè se abbiamo una sequenza praticamente di 51 elementi, dobbiamo fare 51 per 25 confronti. Nel caso peggiore, la situazione si complica. Il caso peggiore vuol dire che la sequenza è ordinata al contrario. Allora, se la sequenza è ordinata al contrario, ogni volta che facciamo un confronto, dobbiamo fare anche uno scambio. Quindi ci si ha esattamente il raddoppio del numero di operazioni elementari. Infatti, supponiamo che questa sequenza noi vogliamo ordinarla in ordine decrescente. Allora, vuol dire che confrontando una coppia di numeri, il primo con il secondo, poi il primo col terzo, sempre con lo stesso procedimento, effettueremo uno scambio quando l'elemento, il primo elemento, sarà più piccolo del secondo, perché vogliamo ordinarla in senso decrescente. Quindi, confrontiamo il 2 con il 6, dovremo scambiarli. Il 6 poi lo confronteremo con il 14 e dovremo effettuare uno scambio. Praticamente, essendo ordinata in senso inverso, dobbiamo effettuare un numero di scambi per ogni confronto. Cioè, praticamente il numero di confronti e il numero di scambi sono gli stessi. Quindi, il numero di operazioni che alla fine dovremo eseguire sarà esattamente il doppio di questa quantità, cioè n più 1 per n. Quindi, come si può vedere chiaramente, la situazione sia nel caso migliore che nel caso peggiore richiede comunque un numero di operazioni elementari abbastanza cospicuo. Anche nel caso in cui l'algoritmo, cioè la sequenza di valori è già ordinata, quindi in realtà se lo sapessimo già da prima non faremmo assolutamente niente. Il problema è che dobbiamo comunque verificarlo che sia ordinata. Vedremo nel prossimo video un nuovo algoritmo, un algoritmo differente per il quale nel caso peggiore la situazione non cambierà di tanto, non cambierà di molto. Dovremo sempre effettuare più o meno lo stesso numero di operazioni. Il vantaggio però ci sarà quando avremo dei casi, non parliamo del caso migliore, però dei casi mediamente disordinati. Andiamo a vedere che comunque nel caso migliore non dovremo effettuare le stesse operazioni di questo algoritmo dell'exchange sort, ma dovremo effettuare un numero di operazioni molto più basso e quindi alla fine sarà più vantaggioso utilizzare quell'altro algoritmo. Quindi sono equivalenti questo algoritmo con quello che vedremo in seguito nel worst case, però nel best case le cose sono differenti. Il calcolo del numero di operazioni che bisogna eseguire per portare al termine un algoritmo viene anche definito complessità. Questo numero ci definisce la complessità dell'algoritmo ed è nel nostro caso, come abbiamo già accennato, un valore abbastanza elevato. Per questo motivo l'exchange sort non è uno degli algoritmi più utilizzati per l'ordinamento di valori.